Amici di Tecnologia Su Misura, ben ritrovati, io sono Andrea. Oggi il nostro argomento saranno i file multimediali. Infatti vogliamo proseguire il discorso sui media server che abbiamo già trattato nel nostro canale con i video di Valerio su Raspberry Pi e su Serviglio. Oggi faremo un passo indietro andando a vedere cosa trasmettono i media server, cioè i file multimediali. Perché lo facciamo? Perché vogliamo proseguire a parlare di media server nei prossimi video. Infatti descriveremo il loro funzionamento e ci concentreremo su Plex, un'applicazione simile a Serviglio quindi che trasforma il computer in un media server appunto. Ma andiamo subito a vedere l'argomento di oggi aprendo lo schema che lo riguarda. Quindi che cos'è prima di tutto un video? Dobbiamo fare alcune considerazioni semplici perché il video è un compromesso metaforicamente tra lo spazio che occupa il file video stesso e la qualità che lo caratterizza. La qualità da cosa è determinata? Prima di tutto dal bitrate, cioè dal flusso di dati che passano all'interno di quel video. Perché dal punto di vista informatico un video non è altro che un flusso di dati compresso. Bit stream. Bit in informatica sono i dati e stream è la traduzione di flusso. Quindi se noi pensiamo al video come un flusso di dati compresso, ora immaginiamo una tela, un quadro sbalzando nell'argomento. Perché voglio farvi pensare a una tela, a un rettangolo, insomma, a un quadro? Perché noi dobbiamo pensare alla risoluzione che ha un video e allo spazio che deve essere riempito per creare un'immagine all'interno di quel rettangolo. Quello spazio è occupato da un flusso di informazioni, da un flusso di bit che metaforicamente sarebbero quindi le pennellate all'interno di un dipinto. E quelle riguardano il bitrate. Più l'immagine è definita, più il quadro è dipinto meglio, con più intensità. Per riempire uno spazio più grande ci vorrà più pittura. Quindi quello che voglio farvi capire è che nella soluzione full HD rispetto, per esempio, a una risoluzione più bassa, ci vorrà un bitrate più alto perché ci sarà più spazio da riempire, tra virgolette, come all'interno di un quadro con una tela più grande. Quindi, chiuso questo paragone per capire la risoluzione e il bitrate, la cosa importante da capire è che il bitrate è fondamentale per la qualità di un video. Più è alto, più il video sarà di qualità. Il problema è che più è alto, più probabilmente la dimensione di qual video sarà alta. Per questo che il video è un compromesso. E questo compromesso da cosa è dettato? È dettato dai codec. Perché i codec stabiliscono la compressione che ha il flusso di dati audio-video, cioè il bitstream. Il formato è secondario, è meno importante. I codec sono il cuore di un file video. Perché dico che il formato è meno importante? Perché il formato è solo un contenitore di file audio-video. E questi file audio-video che cosa sono? Sono i codec, i codec video e i codec audio. Il formato quindi è immaginabile come un file zip che contiene altre informazioni, altri file. Questi file sono appunto i codec. Quindi il cosiddetto file zip, il paragone che ho fatto, semplificando, nel nostro caso, quindi nel caso dei video, sono i video mkv, i video avi, i video movi, i video mp4. Questi sono i formati che noi troviamo, che poi si riflettono nelle estensioni del file. E quindi il formato è il risultato di questo processo, come vedete, il pacco regalo, cioè dell'encapsulation, cioè del processo di incapsulamento, di sostanzialmente richiudere i file compressi all'interno di un formato. Ma questa è la fase chiave, la fase della compressione, perché riguarda i codec. E i codec stabiliscono quanta qualità c'è in un file e quanta compressione c'è in quel file. Quindi i tipi di codec più diffusi sono l'H264, chiamato anche ABC, il peg4 e il dvx, che ho citato più famosi. E dal punto di vista audio invece l'AC3, che è il Dolby Digital, l'AC, che riguarda sempre il formato 1p4, il dts, che come tutti sapete ha il file a bassissima compressione e altissima qualità dei file in alta definizione, e poi l'mp3, che è esattamente il contrario, altissima compressione e bassissima qualità. Quindi qua vediamo appunto come si può stabilire la compressione all'interno di un file. Ora qui ho citato alcuni esempi, i file AVI in bassa definizione, i file in HD, mkv e l'mp4 in riferimento proprio all'mkv. Infatti l'mkv e l'mp4 sono i due formati più diffusi quando si parla di questo abito tecnologico, cioè quello dei video. Da un lato l'mp4 offre alcune caratteristiche, dall'altro l'mkv ha altre opportunità. Infatti l'mkv è più diffuso nell'alta definizione. La scelta dell'mkv, o meglio ricade sull'mkv, perché questo è il formato più flessibile e versatile tra tutti quelli esistenti. Vorrei anche soffermarmi un attimo sul fatto che l'mkv è l'unico formato open source, cioè libero fra questi. Infatti wmw e AVI sono di Windows, mob di Apple, mp4 e di altre aziende proprietarie. Quando quindi un formato è di aziende proprietarie, di solito supporta le caratteristiche di quelle aziende proprietarie, quindi un file mp4 può essere un'altra definizione, possiamo ripare il nostro blu-ray anche in mp4 hd. Il fatto è che l'mkv supporterà solo i codec mp4, un pack 4, quindi dal punto di vista video, o H264, e AAC, che è Advanced Audio Codec, che è sempre riferibile a un pack 4 dal punto di vista audio. Mentre l'mkv supporta tutti i codec esistenti, indifferentemente l'uno dall'altro. Come vedete l'H264 è presente anche qui. Infatti questo è il formato, questo è il codec video migliore esistente, quello che offre una miglior compressione e una parità di qualità inferiore a parità di tutti gli altri. con un procedimento, cioè delle librerie H264, può essere appunto ricreato questo tipo di codec, anche se è un codec proprietario. Tutti questi tipi di procedimenti vengono svolti nella fase di encoding di un video, cioè quando viene creato in poche parole, dove ci sono appunto questi, vedete questi procedimenti, quindi compressione, incapsulamento, tutto questo può essere ritrovato in un programma gratuito che svolge conversione di video e ripaggio dei nostri Blu-ray, come questo. Infatti vedete qua si può scegliere il formato del video, mmp4, mkv e il codec, che tramite appunto le librerie, cioè le librerie di codifica H264, si va a ricreare questo tipo di video codec. Per l'audio poi anche in questo caso possiamo scegliere la traccia, il codec. Ora, non volevo fare una guida su Handbrake, questo programma libero che permette di convertire e ripare i video, ma voglio invece continuare, questo era solo per farvi vedere, volevo solo continuare invece a parlare di quello che sono il supporto agli mkv, appunto a tutti i codec esistenti e anche ai metadata, infatti si possono inserire tracce di sottotitoli multipli, descrizioni delle scene, suddividere i film in capitoli e tutto quello che è in un Blu-ray può essere, diciamo, trasferito su un mkv, con una parità di qualità davvero molto bassa. Qua vediamo quello che fa l'unità di misura della qualità, abbiamo detto il bitrate, si misura infatti bit al secondo, meglio megabit al secondo con una conversione. I megabit al secondo in un file in HD, compresso sono circa 10 di solito e in un 720p 5, poi nulla vieta di avere un 720p con 10 megabit di bitrate, ma ci sarà una qualità superiore e una dimensione superiore. Quello che volevo farvi capire è che un Blu-ray ha un bitrate di almeno 30 megabit per secondo e una dimensione di 30-40 giga. Tutto questo viene ridotto in un mkv che contiene codec per un totale di, non so, 10 giga per esempio, di cui per esempio una traccia audio DTS poco compressa, pensate, può andare a occupare più del 10% del file. Quindi, questo per darvi un'idea di cosa significa, appunto, comprimere un video e di cosa vuol dire farlo in mkv piuttosto che in mp4. Poi c'è anche la bassa definizione, i file avvi sono i più diffusi in questo senso, ma non supportano tutte le features dell'mkv, quindi non sono scelti per l'altra definizione. Per esempio, non supportano DTS ed hanno alcuni problemi con questo tipo di codec video. Vedete, il bitrate è inferiore e il formato scelto per il codec è l'mp4, che offre una miglior compressione però a fronte di una parità di qualità. Chiuso questo discorso, concludiamo vedendo questo tipo di, in questa sezione. Vedete, infatti, che l'mp4 ha i suoi pregi e purtroppo non sono tanti, ma ce n'è uno che lo rende sicuramente il più diffuso su tutti i lettori del mondo. Infatti, l'mp4 ha il pregio dell'universalità, cioè tutti i lettori videostream, HTML5, tutti i browser e tutti i lettori flash player supportano l'mp4. In poche parole, l'mp4 è il formato principe che viene trasmesso su tutto il web. Tutto lo streaming web è in mp4, per esempio anche YouTube vi chiede di caricare un file con questo formato oppure lo converte se non lo fate voi. Quindi questo è il pregio dell'mp4, il fatto di essere universalmente riprodotto in tutti i dispositivi riceventi, anche nell'ambito mobile. Tutti i dispositivi supportano l'mp4, non ci sono problemi. L'mkv non è supportato da tutti, magari ci vogliono dei programmi per riprodurlo, per esempio su computer c'è VLC, ma supporta tutte queste future che lo rendono appunto il più versatile quando si devono inserire tanti dati in un formato. Bene, abbiamo chiuso la panoramica sui file multimediali. Sperando di non avervi annoiato troppo, io chiudo questo video. Per il momento vi saluto e vi ringrazio. Se poi avete delle domande, come sempre potete chiedere, appena abbiamo tempo noi cerchiamo di rispondervi. Quindi un saluto a tutti gli amici di Tecnologia Su Misura e a presto. Da Andrea.